Ciao, sono Alberto Repetti, pittore e disegnatore. Su questo canale troverai esempi di pittura e di disegno, considerazione sulla tecnica e sull'arte, filtrata attraverso la mia sensibilità maturata nel corso degli anni. In questo video parliamo di ritratto dal vero e di come sia utile uno specchio nel disegno e nella pittura. Come usare uno specchio per dipingere e disegnare. Mi raccomando, restate sempre collegati iscrivendovi al canale. Buona visione. Ho ancora un foglio Accademia della Fabriano e una penna Bic Crystal che alternerò, come vedrete, a una penna Like Me, soprattutto nell'ultima parte, sempre della Bic. La noterete perché ha il fusto completamente grigio scuro fumè e, come annunciato nella presentazione, comincerò ad eseguire un mio autoritratto. Ho scelto questo argomento, non perché necessariamente lo debba essere, ma in questo caso lo è, molto pertinente con l'ultimo video dove abbiamo parlato di tratteggio e abbiamo visto ben tre esempi di ritratti eseguiti con questa tecnica. Mi piacerebbe ragionare così a ruota libera sulla rappresentazione del ritratto e come questa pratica possa essere utile e formativa se a priori vi è l'approccio che vi propongo adesso. Il ritratto è, possiamo dire, lo sguardo della persona che abbiamo di fronte, sia che guardi noi o che guardi da qualsiasi altra parte. Non ci poniamo in questo modo davanti a una mela, davanti ad oggetti lasciati in posa per essere accomodati nel dipinto. Abbiamo la percezione che gli oggetti non ci guardino, a meno che non stiamo ritraendo che sia una bambola inquietante. Non abbiamo questa percezione, neanche quando siamo davanti a un paesaggio. Sì, perché il ritratto, a mio avviso, è essenzialmente e soprattutto la rappresentazione dello sguardo che mi appartiene, che ho anche io e che conosco bene. Dov'è diretto lo sguardo? Chi guarda? Cosa pensa? È turbato, sereno, accigliato? Da dove viene questa persona che ho davanti? Perché si è vestito così? Cosa posso sapere di lui? Mi serve sapere qualcosa di lui? Sono tutte domande che ci poniamo quando siamo di fronte a un'immagine di un volto di una persona. Innanzitutto chiarisco che questo è riferito solamente a un ritratto che io vado a fare naturalmente dal vero, ovviamente. Se devo ricopiare una fotografia, la questione potrebbe diventare più meccanica, se eseguita all'inizio del nostro percorso formativo, soprattutto. Dopo, quando si abbastanza padroni del mezzo, tutto può essere considerato per quel che riguarda ciò che vogliamo ottenere e come ottenerlo. Ma all'inizio, ripeto, è quasi necessario aver di fronte un volto, che potrebbe essere anche quello di una statua. Le domande che ci porremmo sarebbero esattamente le stesse, anche se fosse una statua. Sono gli occhi quelli che ci interessano maggiormente, perché sappiamo che lì dentro vi si può trovare molto, e allora siamo disposti a cominciare da lì, per fare la nostra indagine. Anche perché sono due elementi, gli unici, quasi simili, che si ripetono nel volto, anche le orecchie, ma spesso non le vediamo tutte e due, a meno che l'individuo non sia proprio di fronte a noi, e comunque le orecchie sono molto di scorcio. Quindi, la vista. Vi ricordate, la volta scorsa? Il video scorso ne parlavamo a proposito dell'organo principe, per Leonardo. A questo proposito vi metto il link in alto a destra, così se ve lo siete persi potete andare a riguardarlo, il video, perché è molto correlato con l'argomento odierno. Quindi Leonardo, dicevamo, ci ha aiutato a capire la sua opinione sulla vista, che non ammetteva repliche, e oggi ritorniamo, come sempre, e come ci accadrà ancora di occuparci di lei. La vista ci consente di incontrare l'altro, che noi, se ci poniamo come ritrattisti, consideriamo sempre come uno specchio, in cui riconosciamo delle similitudini. Anche noi siamo fatti così, e abbiamo imparato a riconoscere, e identificare lo sguardo, e anche i tratti, che lo caratterizzano. Chissà quante volte non ci siamo riconosciuti in una fotografia, o in un filmato, che ci hanno fatto, sembriamo goffi, c'è qualcosa che non va, ma non sappiamo che cosa. La parola, sono venuto, l'espressione, sono venuto male, non vengo mai bene in fotografia, è un refrain, che chissà quante volte abbiamo detto anche noi stessi, o abbiamo sentito dire ad altri, ma quando lo abbiamo detto, o lo abbiamo sentito dire, non ci siamo soffermati un attimo a pensare, perché se lo avessimo fatto, avremmo certamente capito dove sta il problema. Non ci riconosciamo. Quelle persone che vediamo nella fotografia, non siamo noi, o meglio, non siamo noi per come siamo abituati a vederci. L'invenzione dello specchio è stata un'invenzione straordinaria, ma è a lei che dobbiamo imputare tutto questo. Infatti, quando ci specchiamo, abbiamo una visione di noi speculare. Ciò che sta a destra, lo vediamo a sinistra, e ciò che sta a sinistra, lo vediamo a destra. Basta mettere un foglietto scritto davanti allo specchio, per notare che le parole si leggono al contrario. E siccome noi tutte, e noi tutti, non abbiamo un viso simmetrico, ecco che una lampadina si accende e cominciamo a ragionarci sopra. Quindi, riflettiamo quella parte di viso, che io so che è la mia parte destra, per gli altri invece è la sinistra. E quindi io, se mi vedo speculare, mi sono sempre visto speculare, ho sempre visto una persona diversa da come mi vedono gli altri. Ma quando posso vedermi come mi vedono gli altri? In una fotografia, in un filmato, o in un ritratto. Svelato il mistero, e svelato anche il perché amiamo così tanto farci selfie. Perché ci riconosciamo? Semplicemente. Quindi l'autoritratto diventa un momento consolatorio, in un certo senso, né più né meno che il selfie. A questo proposito, per far sì che la persona fosse soddisfatta del lavoro, il pittore, il pittore ufficiale di ritratti, faceva posare il modello davanti ad uno specchio, per dipingerlo esattamente come lui si percepiva, né più né meno, con gran soddisfazione del cliente. Dipingere le persone riflesse in uno specchio, aveva anche il vantaggio di poter fare dei segni sullo specchio, e così poter mettere in posa i modelli nella esatta posizione del giorno prima. Ritornando al discorso di prima riguardo alla nostra asimmetria. Ogni tanto, per questo motivo, è interessante realizzare un autoritratto, soprattutto con il passare degli anni, dove si accentua molto di più questa asimmetria. Poi troverete sempre un modello o una modella disponibilissimi a posare, in voi stessi. E' bene approfittarne e autoritrarsi, ma cercando di spersonalizzarsi, come se non avessimo davanti un volto, ma oggetti, figure che non hanno implicazione emotiva. Se no, si può incorrere nell'errore, che ripeto ancora, di fissarsi sulla somiglianza e dimenticarsi della cura del segno, e di riprodurre quanto più fedelmente le forme che ci stanno di fronte. Apro una parentesi, come le molte che ho aperto e richiuso, senza neanche dirlo in questa chiacchierata. Molti artisti lo hanno fatto, moltissimi, e secondo una mia interpretazione personalissima della storia dell'arte, anche per convenienza di autoritrarsi. Ad esempio, il ritratto di Caravaggio nelle vesti della testa di Golia, è per me un esempio lampante, e secondo me qui non c'è nessuna intenzione di tramandare chissà quale disperazione. L'opportunità, come noi abbiamo, di avere come modello se stesso e poter posare per ore in quella smorfia di dolore, era troppo efficace per non essere colta. Ma questo si fa anche con altri personaggi, quindi gli artisti usano il proprio corpo anche per rappresentare altre persone all'interno del dipinto. Quindi per ritornare al ritratto, e a quello che dicevamo prima, scoperto il motivo perché una persona possa non piacersi in un ritratto, che potreste farle o fargli, sapete già come rimediare. Procuratevi uno specchio. Io me lo sono procurato, e mi sto guardando, e noto le differenze che riporto nel disegno, grandi, che vi sono nel mio viso. La mia assimmetria noto che procede spedita. Io dicevo che di solito procedo così, ed è per questo che poi la noto, questa assimmetria. Prima faccio l'occhio sinistro, come ho detto, poi l'occhio destro, poi il naso, la bocca, la guancia destra e la guancia sinistra, e poi la testa. Ma potrebbe anche essere che faccia tutta la parte sinistra, e poi la destra dopo. Ma è più raro. In questo caso, ho adottato la mia prima maniera. Ho usato ancora questa carta, per non discostarmi molto dal segno che abbiamo visto la volta scorsa. E sto notando, in questo disegno, ma, ed era un po' che non facevo proprio l'autoritratto, come non soltanto la parte, la parte simmetrica riguarda gli occhi, oppure le guance, ma anche le narici. Quindi, proprio il ritratto, come scoperta, conoscenza, approfondita, di noi stessi. Ma la scoperta non si ferma a noi, ma anche e soprattutto, nei confronti delle persone che decidiamo di ritrarre. E soprattutto, con le persone che conosciamo, più da vicino, la cui analisi del volto, ci rivela aspetti inattesi, e ci costringe ad avere attenzione, verso particolari, che magari prima non avremmo notato affatto. Il ritratto, è sempre una grande suggestione. E la sua analisi, ha pervaso tutta la storia della rappresentazione dell'umanità, che è legata a doppio filo, con la riproduzione delle persone, con la riproduzione dell'uomo, sia essa scultorea, che pittorica. Da pigmalione in poi, le vicende a cui è legata, sono infinite. Penso, ad esempio, alla letteratura, dove il ritratto, è assolutamente protagonista. Mi vengono in mente due esempi. Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, e il capolavoro sconosciuto di Balzac, che, quest'ultimo, è alla base, nelle intenzioni, della serie di acqueforti, di Picasso, la suite volard, che abbiamo visto la volta scorsa. Non si può certo liquidare, il discorso sul ritratto, in un video di 15 minuti. Tuttavia, spero che questo, che abbiamo trasmesso oggi, possa servire da spunto, per cominciare a ragionare, e ad aprire altre porte, altri punti di vista. Siamo giunti al termine, di questo video, e vi ringrazio, per averlo visto, e spero lo abbiate trovato interessante. E vi invito, oltre che ad iscrivervi al canale, la qualcosa è importantissima, per quanto riguarda il posizionamento del video, su questa piattaforma, ad andare a leggere, sotto nelle notazioni, dove, oltre ai link, ai miei lavori, metto anche riferimenti, in rete, delle cose, di cui abbiamo parlato. E vi invito, anche a commentare, suggerendomi, qualche argomento, o quale argomento, vi ha interessato di più, e quale vorreste, che io approfondissi, o trattassi. Quindi vi saluto, e vi do appuntamento a sabato. E vi lascio, con una frase di Goethe, che dice, i modi di un uomo, sono uno specchio, in cui mostra il suo ritratto. Arrivederci.